Creare una rete di sodalizi sportivi per promuovere e programmare iniziative assieme al comune di Sciacca, anche con un carattere sociale. E' quanto ha chiesto il sindaco Francesca Valenti nel corso di un incontro con le associazioni sportive che operano in città e che si è svolto questa mattina in Sala Blasco. Lo sport, dice il sindaco Francesca Valenti, insegna lealtà, sana competizione, rispetto delle regole dell'avversario, spirito del sacrificio. Lo sport è dunque una palestra di vita ed un educatore civico. Tutte le associazioni e le società sportive sono state invitate a creare una rete, una scuola dello sport, con lo scopo di programmare attività comuni di promozione, formazione e informazione. Il sindaco Francesca Valenti ha inoltre chiesto la disponibilità ad accogliere ragazzi in situazioni di difficoltà. Saluta con estremo favore la riunione di stamattina Pippo Simone Vullo, presidente dell'associazione sportiva ed elettantistica al Discobolo, il quale ha dichiarato che dopo 30 anni di chiacchiere inutili senza senso, a parte alcune parentesi di persone colte e sensate, finalmente l'interlocutore di oggi si è saputa confrontare con le società sportive, al di là del tentativo di innescare futili guerre tra poveri. L'intervento del sindaco con delega allo sport Francesca Valenti, a giudizio di Pippo Simone Vullo, è stato molto chiaro e deciso. Sono pienamente convinto, ha detto, che possiamo ben sperare. Finalmente, conclude Pippo Simone Vullo, ho sentito parlare di scuola dello sport, ordinamento sportivo, turismo sportivo, programmazione, impiantistica sportiva. Il sindaco ha dato tutte le risposte e che ha cercato di incalzarla, credo, ha concluso Pippo Vullo riferendosi a Francesca Valenti, sia la persona giusta per lo sport.